Ciao a tutti ragazzi, io sono Nina e questa è la 26esima tappa di Oltrapi 2021. Sono qui rinchiusa nel bagno della fabbrica delle candele a Forlì, stamattina siamo partiti prestissimo, abbiamo smontato tutte le tende sotto la pioggia, siamo arrivati da Lido di Dante qui a Forlì dove abbiamo montato l'ape e anche il nostro bosco per un evento che sta per iniziare adesso. Durante il corso della giornata abbiamo intervistato Fausto Biloslawi, abbiamo chiesto qual è la situazione insomma in Afghanistan e anche a Kabul, abbiamo fatto puntata con i Runaway che sono un gruppo di 12 ragazzi che suonerà anche domani nel nostro evento a Forlì e abbiamo raggiunto anche i ragazzi del laboratorio aperto qui a Forlì sempre. Sta per iniziare appunto il nostro evento, abbiamo appena mangiato e vi presenteremo insomma il libro di Oltrapi 2019 e anche il documentario e parleremo un po' del nostro viaggio che si sta per concludere. Proprio perché sono gli ultimi giorni di Oltrapi 2021 mi raccomando continuate a seguirci, speriamo di riuscire ad arrivare a Gazzelguelfo e ci sentiamo domani. Ciao!